Una riunione importante con tutti i sindaci, la direzione generale della ASL, c'è un DPCM da applicare e le regole sono stringenti, bisogna fare appello al buon senso e all'intelligenza di tutti i cittadini? Assolutamente sì, perché tutti quanti devono concorrere al contenimento e alla diffusione del virus e in questo senso facciamo le riunioni in prefettura perché venga applicato per i diseguamenti il DPCM. Ci sono anche dei controlli dei presidi soprattutto anche per l'ordinanza stringente del Presidente della Regione Michele Emiliano che ha invitato tutti coloro i quali rientrano dalle zone rosse a rispondere sia del DPCM che della sua ordinanza. A parte questo io posso già preannunciare che i controlli saranno molto stringenti e le sanzioni saranno molto determinate a che tutti quanti ci mettiamo in testa, che bisogna tutti quanti collaborare. Vogliamo ribadire ancora, è una cosa che ne va della salute dei cittadini, questa è la cosa più importante. Non saremo dolci nei confronti di nessuno, tutti quanti lo devono capire questo fatto, quindi saremo davvero, uso questo termine, feroci nel far rispettare la legge e soprattutto nel far rispettare ai cittadini un obbligo che prima di tutto è un obbligo morale e poi diventa un obbligo sostanziale per la nostra società.